La domanda è semplicemente, tu hai visto questa iniziativa del donna cibo, è una cosa che serve a insegnare ai ragazzi cosa significa condividere e aiutare i poveri, cioè questo dei ragazzi degli elementari, delle medie e anche delle superiori. Che impressione ti fa questa cosa? Cosa pensi di un'iniziativa del genere? Guarda, quello che mi ricordo è di avere fatto una cosa simile quando ero liceale e mi ricordo esattamente con chi ero, dove ero. E' come le persone all'uscita dal supermercato contente, sorridevano, in genere uno esce dal supermercato un po' così stanco, ha fatto la fila, ha fatto la coda, anche perché poi si fa in periodi sempre in cui ci sono code lunghe. Allora questo secondo me già dice una cosa molto semplice, che per avere un sorriso bisogna forse comprare qualcosina in più e regalarla agli altri. E mi ricordo che lo stare lì quel pomeriggio a chiedere queste cose alle persone, oltre ad essere divertente, è stato poi appunto fare incetta di questi sorrisi.